Benvenuti in un'altra grande puntata del talk ScienzeMotori.com oggi in compagnia di un grandissimo ospite Stefano Serrano, ciao Stefano, benvenuto Stefano è il dottore Scienze Motori osteopata, tecnico specialista in atletica leggera e collaboratore con la Federazione Italiana di Atletica Leggera nella parte della valutazione in questo spazio che oggi oltre a tutto inauguriamo in questa nuova sala registrazione parliamo di quello che è stato il tuo percorso quelle che sono state le tue strategie che ti hanno portato a fare con successo quello che stai facendo oggi lo facciamo condividendo come al solito un'ottima tazza di te e iniziando la prima domanda come hai iniziato il tuo percorso? ok, io ho iniziato da appassionato di sport in particolar modo di atletica leggera e nel corso degli anni poi la mia passione per questo per lo sport in generale mi ha portato a lavorare a fare l'Università Scienze Motorie e da lì ho iniziato poi un percorso che mi vede a 360 gradi all'interno dello sport sia come tecnico che come valutatore come dicevi tu nella presentazione come osteopata insomma da diversi punti di vista hai seguito tante squadre tanti atleti hai avuto una lunga esperienza? sì, ho iniziato a seguire atleti di atletica leggera poi mi sono fatto un po' il preparatore fisico in diversi sport a partire dalla vela dalla scherma dai tuffi ho lavorato un po' anche in sport di squadra come il calcio la pallavolo come preparatore fisico però diciamo che la mia occupazione principale negli ultimi dieci anni è stata l'atletica leggera prima come tecnico di atletica leggera poi pian piano mi sono spostato verso più una parte manageriale di coordinamento degli atleti e dei loro staff e quindi abbiamo cercato di costruire intorno a ogni atleta uno staff di professionisti che le aiutassero a raggiungere al meglio i loro risultati e io preparavo comunque sia organizzavo dei progetti intorno a loro dando degli obiettivi a medio a lungo termine che è di coordinamento tra le varie figure dello staff che dovevano sì lavorare in maniera singola ma soprattutto interagire tra di loro e per portare avanti quello che poi era l'obiettivo di tutto lo staff che era il raggiungimento di un risultato da parte dell'atleta questa cosa molto interessante perché è poco conosciuta in Italia soprattutto quello che non è l'alto livello ovvero la parte di gestione di collegamento di connessione di tutte le aree per il raggiungimento di un grande obiettivo e qualcosa che ho visto all'estero mi fa piacere che ci siano figure anche specializzate in Italia che sia tu oggi che puoi parlarne perché quando si programma pianifica un obiettivo importante è necessario coordinarsi e conoscere il ruolo di ogni professionista che è all'interno di un team specialistico quali erano le figure con le quali tu ti confrontavi? allora sicuramente il tecnico che insieme all'atleta era diciamo un po' il core dello staff e poi c'erano tutti dei professionisti legati a figure professionali che potevano essere utili all'atleta quali un fisioterapista l'osteopata nutrizionista psicologo dello sport un medico di riferimento e poi tutta la parte di società o figure professionali che curano l'immagine o sponsor tecnici o manager tecnico che trova le gare agli atleti tutta una serie di figure che vanno coordinate per riuscire a ottimizzare le loro risorse le loro capacità sicuramente mi ha aiutato molto il mio percorso di studi in questo in questo ruolo perché oltre a fare la laurea triennale in scienze motorie ho fatto un master in metodologia e allenamento laurea specialistica in scienze tecniche dello sport poi ho fatto sei anni di osteopatia quindi ho approfondito molto il discorso dell'anatomia della fisiologia ho fatto diversi corsi di specializzazione in ricerca in mental coaching in nutrizione quindi ho una conoscenza ho acquisito una conoscenza molto ampia e quindi e questo mi ha aiutato a interagire con ogni figura dello staff in maniera più profigua ecco congratulazioni innanzitutto per il percorso che è una rarità insomma così articolato così approfondito sono i pochi ecco che hanno un'ampiezza di veduta cioè passare sia dalla parte manageriale quindi gestione sia dalla parte scientifica con questo grado di innovazione e qual è lo stimolo che scaturisce dentro di te e che ti porta ad approfondire così tanto tutte queste materie sì io parto dal presupposto che non si finisce mai di imparare no e quindi devi sempre andare alla ricerca di argomenti nuovi di materie nuove di approfondire alcuni discorsi di confrontarti con le persone creare rapporti per avere sempre stimoli nuovi sicuramente la mia curiosità la mia la mia voglia di di arricchire sempre più il mio bagaglio delle conoscenze mi porta a intraprendere sempre percorsi alternativi anche a quello che sto facendo ho intrapreso anche il percorso di collaborazione con le università perché credo molto nella collaborazione che ci deve essere tra le università di scienze motorie le federazioni e magari le istituzioni come il CONI perché mettendo insieme queste figure professionali si possono ottenere e trovare delle strade valide che possono portare grandi risultati quindi ho intrapreso delle collaborazioni con le università prima in ambito di docenza prima all'università di Torre Bergata di scienze motorie e poi ultimamente all'università del Foro Italico dove ho avuto la possibilità innanzitutto di conoscere altri professionisti ricercatori all'interno dell'università che insieme alle mie idee loro hanno poi la capacità di portarle nell'ambito della ricerca e quindi poi attraverso collaborazioni con il CONI o con la federazione portare poi gli atleti a fare delle valutazioni un po' più specifiche un po' più mirate per poter trovare dei dati o delle risposte che possano poi essere applicabili sul campo e questo poi mi ha portato anche a fare le docenze quindi le lezioni all'università che è una cosa che mi piace molto perché riesci a cerchi di trasmettere le tue conoscenze il tuo bagaglio di esperienza a studenti che si approcciano che stanno frequentando che avranno poi il futuro un lavoro nelle scienze motorie e quindi tu cerchi di trasmettere la tua esperienza il tuo percorso e soprattutto quello che io cerco di dare è una filosofia un approccio a ragionare a riflettere a essere sempre curiosi e a cercare di approfondire sempre gli argomenti che magari all'università vengono trattati a spot poi invece loro devono intraprendere un percorso di approfondimento personale in base all'ambito che scelgono dove lavorare quindi responsabilità consapevolezza di quello che serve quando si va a lavorare e un approccio un approccio vincente quando ci si inserisce in un ambito professionale e questo tu non soltanto lo insegni ma lo rappresenti perché tutto quello che ci sta raccontando ha veramente un grande valore ci sono state delle figure di mentori particolari che ti hanno guidato nel tuo percorso a cui ti sei ispirato? sì sicuramente nell'ambito dell'atletica leggera ci sono delle figure alle quali io mi sono ispirato che sono stati dei punti di riferimento nel mio percorso da tecnico anche se poi nell'ambito del mondo delle scienze motorie dello sport cerco di prendere spunto da ogni professionista e anche seguendo voi qui al talk show che invitate sempre delle persone dei professionisti veramente da altissimo livello e ognuno di loro poi alla fine mi trasmette qualcosa che io posso posso prendere per come spunto per la mia attività per le mie idee per andare avanti per cercare di di innovarmi di trovare stimoli quindi non c'è proprio una persona precisa ma un po' da tutti cerco di di prendere qualcosa mi fa piacerissimo sapere questo e mi fa altrettanto piacere sapere che se hai seguito le altre puntate e oggi sei qui vuol dire che c'è un'energia positiva che assolutamente si trasforma in qualcosa di altrettanto positivo e a condivido anch'io bisogna avere un retto attento ascoltare eh tante voci e mai dare per scontato che ci siano delle lezioni anche laddove è più difficile individuarle e anche delle persone che apparentemente potrebbero essere più lontane dal nostro ambito professionale quindi è proprio un approccio è un approccio ed è il motivo per cui quando ho visto quello che fai ritengo veramente importante che tu possa mostrarlo ecco raccontarlo a chi ci sta ascoltando nel tuo ambito professionale hai detto sono tante le cose che fai una molto interessante anche quella della valutazione no? tu hai parlato della valutazione come si sviluppa questo tipo di lavoro che fai con la società e con gli atleti? ok allora per quanto riguarda la valutazione io mi occupo sia di valutazione neuromuscolare quindi tutta una serie di test che vengono fatti sia con strumentazioni con analisi 3D oppure con pedane di forza accelerometri opto jump insomma tutta una serie di strumentazioni che possono dare delle informazioni che possono essere di aiuto ai tecnici per meglio indirizzare il loro allenamento e poi mi occupo anche di valutazione posturale quindi per quanto riguarda la valutazione posturale è stato molto utile in questo mio approccio il mio percorso da osteopata dove ho potuto approfondire sia la parte anatomica che la parte fisiologica del corpo umano e anche tutti gli aspetti della fisiologia articolare degli equilibri muscolari che poi mi aiutano a inquadrare meglio la valutazione posturale e tra l'altro il percorso da osteopata mi ha aperto anche la visione a 360 gradi e mi ha aiutato molto anche nell'aspetto tecnico in quanto poi l'osteopatia si basa su una visione olistica del corpo umano e questa visione la si può riportare anche in un ambito tecnico e metodologico e quindi cercare di capire che l'effetto che si ha su un qualcosa molto spesso ha un'origine da un'altra parte quindi anche così come una patologia nell'ambito dell'ossiopatia può avere un'origine lontano dal luogo del corpo dove avviene il sintomo così anche l'aspetto tecnico può avere una visione olistica e quindi l'effetto che tu vedi l'errore che tu vedi ha quasi sempre una causa che avviene prima in un movimento prima rispetto all'errore che tu trovi quindi poi andare a correggere l'errore direttamente in sé per sé non porta mai dei buoni risultati ma bisogna andare a correggere la causa che crea quell'errore quindi ecco questa visione poi me la sono riportata anche nell'ambito dello sport l'osteopatia è una disciplina molto sempre più conosciuta ok e in continuità con lo studio diciamo con le scienze motori ok la tua esperienza dopo la laurea per aver intrapreso questo percorso da trasmettere a chi sta pensando di intraprendere lo stesso lo stesso percorso che hai fatto tu qual è? sì sicuramente ripeto è un percorso che è affine secondo me alle scienze motorie perché comunque sia ti occupi sempre di movimento del corpo umano quindi diciamo che può essere un un approccio ulteriore alle scienze alle scienze motorie in questo momento c'è tutto un dibattito alla Camera al Senato per il riconoscimento come professione sanitaria però comunque sia è una professione che ti ti fa approfondire molto tutti gli aspetti neurologici l'aspetto anatomico l'aspetto fisiologico che poi tu puoi riportarti nel mondo delle scienze motorie e come percorso lo vedo lo vedo come un link utile quanto incide poi nella tua quotidianità cioè tu come riesci a proporti come osteopata e in ambito tecnico con la federazione e alle squadre sì diciamo che come osteopata mi mi propongo soprattutto come forma privata nel senso che lì dove svolgo un ruolo da valutatore cerco di fare il ruolo da valutatore pur avendo una visione anche osteopatica magari questo mi permette di poter interagire con fisioterapisti o con medici per trovare eventualmente delle soluzioni più efficaci però poi quando mi occupo di valutazione non invado mai il campo perché abituato e credo molto nel lavoro di staff poi ognuno deve ricoprire il ruolo che gli viene dato pur avendo conoscenze anche in altri ambiti invece in alcuni casi altre eti mi chiedono o squadre mi chiedono di occuparmi prettamente del lavoro osteopatico quindi in quel caso io lì mi occupo di solo di osteopatia insomma però poi avendo anche conoscenze nell'ambito delle scienze motorie da figura osteopatica posso interagire con il preparatore fisico con l'allenatore o con il tecnico per poter dare dei consigli insomma o trovare soluzioni a delle problematiche che si verificano quindi riesci comunque sia a mantenere solitamente uno dice ok faccio osteopatia diventerò un osteopata e quindi lascialo il campo tu riesci a mantenere tante sì perché sono due passioni che vanno parallele in me quindi non voglio lasciarne una a discapito dell'altra insomma quindi cercherò sempre di portarle avanti tutte e due così anche come mi piace tutto il mondo della ricerca o dell'ambiente universitario quindi cercherò il più possibile di continuare a fare anche un po' di ricerca di collaborare con ricercatori dell'università per poter fare delle cose interessanti anche in quell'ambito insomma penso sempre che non bisogna mai chiudere una porta o lasciarsi sempre più porte aperte e con un po' di sacrificio da parte tua da parte di chi ti sta intorno perché ovviamente il tempo è limitato però se ti organizzi riesci ad avere a dare una soluzione a tutto a trovare tempo per tutto certo è che magari dormi poco la notte perché hai tante cose da fare hai tanti pensieri lavorare al computer o preparare programmi o organizzare ricerche o correggere tesi insomma il lavoro è tanto però se ti organizzi riesci riesci comunque a farlo è che poi quando fai quello che ami fare esattamente dormire è relativo il motore il motore che ti deve sempre spingere la passione per quello che fai il piacere il piacere di quello che fai se hai trovato quello poi una soluzione si trova sempre insomma quando parlavi prima di valutazione un argomento che ritengo molto interessante è la possibilità di anticipare prevedere quelli che possono essere le conseguenze di un atteggiamento scorretto di un movimento scorretto oggi tu con le competenze in ambito osteopatico di postrologia in generale con le scienze motorie ti occupi anche di quello che è una proiezione di un eventuale successivo infortunio le valutazioni che fai quale fine anno sì diciamo che mi sono costruito una tabella di valutazione con degli outcome funzionali che vengono messi dentro una tabella con dei punteggi e poi in base al punteggio che tu ottieni sommando tutti i valori dei test puoi avere un'idea sul rischio più o meno dell'infortunio in uno sport come l'atletica leggera dove non ci sono infortuni da contatto diciamo che forse questa ha una valenza un po' più importante perché l'infortunio nasce sempre o da sovraccarico o da un malfunzionamento di una catena muscolare o da un ripetersi errato di un gesto mentre in uno sport dove c'è il contatto fisico quello diventa un pochettino più difficile andarlo a valutare però è così il mio obiettivo è soprattutto nella valutazione fare una valutazione per la prevenzione degli infortuni dopodiché la valutazione si trasferisce nel cercare di dare una mano dare dei consigli o valutare l'andamento di un allenamento per la performance però alla base ci deve essere la valutazione posturale una valutazione legata alla prevenzione degli infortuni anche perché io ritengo che poi andare per esempio a valutare quanto velocemente sposti un bilanciere con il vattaggio quindi quando la potenza senza avere la certezza che il corpo sia in equilibrio non la vedo una cosa efficace ai fini della performance perché poi alla fine magari sistemando soltanto un equilibrio muscolare e l'efficienza del corpo ottieni un vantaggio nello sviluppo dei watt pur senza lavorare nello specifico nella potenza muscolare ecco quindi penso che in un progetto di valutazione da maggiore importanza la parte di valutazione posturale per poi passare alla vera e propria valutazione funzionale quindi per tutti gli aspetti che poi interessano di più la performance condivido infatti mi fa piacere che ci sia tutto questo sviluppo che io stesso noi l'abbiamo fatto negli anni con esercizio correttivo tutto questo lavoro sulla parte di valutazione indagine e poi programmazione però in Italia non è da molto che esiste questo filo conduttore soprattutto nella figura del laureato in scienze motoriche che faccia rifiuto a questa parte tua di professionalità magari c'è quello che si occupa di funzionale allenamento funzionale esercizio funzionale ma mancando poi della parte di valutazione iniziale quindi eventuale correzione ripristino di una funzionalità che poi permetta all'organismo di esprimersi nel migliore dei modi lì il mondo è diciamo molto vasto il fatto che tu abbia fatto autonomamente una tabella di valutazione anche nel tuo caso è una dimostrazione cioè ci sono sì dei punti di riferimento ma poi ognuno si crea quelli che sono i suoi protocolli di valutazione la parte posturologica ancora è molto aperta e è un altro di quegli ambiti in cui un laureato in scienza motore ad esempio ha molto spazio di azione soprattutto collaborando con tante figure specialistiche nel tuo caso tu in qualità di osteopata ti trovi anche a lavorare non so a volte sono optometristi oculisti dentisti eccetera assolutamente sì lì dove ci accorniciamo che c'è la necessità di dover fare un'indagine un pochettino più approfondita diciamo la parte sensoriale che più interessa sono occhi bocca e piedi quindi comunque sia un optometrista o un dentista che non è solo un dentista insomma comunque sia chi si occupa della parte dell'agnatologia o comunque sia un tecnico un podologo sono figure con le quali interagire per poter far funzionare meglio la postura fermo restando che poi va sempre fatta una valutazione molto individuale non c'è un non ci deve essere una strada che è uguale per tutti perché così non è perché siamo degli individui ognuno a suo modo diverso dall'altro quindi lì dove si capisce recentemente abbiamo faccio un porto un esempio pratico di un atleta di alto livello che soffriva sempre di problematiche agli schioclurali non si riusciva mai a capire la causa io in quel caso facevo faccio l'osteopata per lui parlando con un atologo siamo venuti poi alla conclusione che togliere i denti del giudizio potesse essere funzionale a questa problematica infatti abbiamo risolto il problema passando per togliere due denti insomma quindi ecco poi le strade da percorrere possono essere tante bisogna avere più conoscenze possibili proprio per trovare le strade le strade migliori e andare alla ricerca di professionisti che possono aiutarti nel trovare il percorso giusto tu usi della strumentazione particolare per fare questo tipo di analisi? allora ormai il mondo della tecnologia è all'avanguardia avanzatissimo quindi ci sono tante strumentazioni da poter utilizzare per fare questi tipi di valutazioni ma non bisogna diventare a mio avviso schiavi di queste valutazioni di queste strumentazioni perché poi la capacità di sintesi che ha l'individuo la capacità di osservazione e di percezione che ha l'individuo nella valutazione diventa per me rimane sempre fondamentale quindi si utilizzo delle strumentazioni le strumentazioni che utilizzo io non sono di ultima generazione ci sono anche cose molto più sofisticate però poi alla fine ti accorgi che quello che conta poi è come utilizzi e come interpreti i dati che ti vengono dati questo è fondamentale molto spesso l'errore è quello di accumulare dati prendere dati e poi non utilizzarli non convertirli in un'azione pratica in una decisione successiva convengo sul fatto che sì esistono tanti strumenti innovativi straordinari l'osteopatia però utilizza fondamentalmente le mani e i test con i quali poi raggiungiamo quindi le stade sono molte per esempio come dottore di scienze motori volendo contribuire sempre dando degli spunti di riflessione dando un indirizzo a chi ci sta ascoltando quali possono essere magari quale può essere un approccio per lavorare in ambito di postologia se ci sono dei test che tu utilizzi quando osservi una persona quando valuti una persona che può utilizzare un professionista di scienze motori sì allora dipende molto dall'ambito in cui lavori e dallo sport che vai ad approcciarti al quale vai approcciarti ci sono dei test che possono essere un po' più generali e dei test che possono essere un po' più specifici io ho preso un po' tutta le batterie di test che ci sono nel mondo della valutazione posturale della valutazione funzionale e ho scelto alcuni test che ritenevo più appropriati per in questo momento seguire soprattutto l'atletica leggera i due test che uso maggiormente sono l'overhead squat test che è un test riconosciuto in ambito internazionale quindi ha una valenza in tutto il mondo e poi l'hub squat monopodalico perché ho questa necessità di essendo l'atletica uno sport dove si sta prevalentemente su un arto per volta quindi gli stacchi le corse vengono fatte in appoggio monopodalico ho avuto l'accortezza di andare a valutare anche la postura l'atteggiamento della postura e le varie ipo o iperattivazioni muscolari in appoggio monopodalico poi da lì parto con una serie di osservazioni per andare a indagare alcuni distretti quando trovo alcuni distretti faccio dei test normali di forza muscolare del singolo distretto muscolare quindi ci sono diciamo delle strade a percorrere anche partendo come laureato in scienze motorie per indagare e poi sia collaborare che intraprendere delle azioni successive e tu sei anche docente in ambito universitario con che sia di collaborazione hai detto qual è la tua opinione sul sul percorso che oggi viene proposto all'universitario allora c'è molta differenza tra università e università perché è vero che i percorsi sono abbastanza uniformati ma poi c'è la libertà dell'università di fare più o meno esami più o meno materie in linea di massima si tende secondo me a cercare di dare una formazione forse troppo medica e meno di come il mercato del lavoro è cambiato negli ultimi anni perché mentre prima il vecchio ISEF formava soprattutto insegnanti di educazione fisica quindi aveva una struttura molto ben definita nella formazione della didattica dell'insegnamento allora c'era l'educativa adesso il mondo del lavoro è cambiato e la formazione universitaria si è spostata secondo me troppo nella parte medica andando poi a creare anche dei conflitti con la parte fisioterapica quando invece c'è tutta una fetta di mercato del mondo delle scienze motorie che andrebbe approfondito e l'università deve avere il compito di portare la parte teorica poi in termini pratici quindi di dare più importanza agli aspetti pratici del lavoro delle scienze motorie legato appunto alla parte di valutazione con strumenti tecnologici la riatletizzazione degli atleti infortunati adesso questa è una figura che sta andando sta prendendo un po' piede è una figura che interviene subito dopo la parte fisioterapica ma è quell'anello di congiunzione che c'è tra la parte fisioterapica riabilitativa e poi il passaggio nelle mani del tecnico dell'allenatore vero e proprio all'inserimento all'interno di una squadra o nell'atletica leggera nelle mani dell'allenatore che ricomincia la preparazione vera e propria quindi quella è una figura molto molto importante che sta prendendo piede c'è il video analista quindi performance analyst che è comunque sia una figura che sta prendendo piede c'è per gli sport di squadra o anche negli sport individuali quindi ecco non esiste solo il mondo della scuola il mondo del fitness nelle scienze motorie c'è tanto altro secondo me soprattutto nella preparazione fisica ci si può trovare diverse nicchie dove andare a lavorare e l'università dovrebbe avere questo compito capire qual è la richiesta di mercato nel mondo del lavoro e formare le persone anche nell'aspetto un po' più pratico mi fa piacerissimo senti da parte tua insomma che hai anche la responsabilità di parlare con con i ragazzi e lo fai da professionista molti dei dei docenti come hai giustamente detto vengono da un ambito medico e non conoscono quello che è poi il lavoro la quotidianità di un professionista in scienze motorie le aspettative le potenzialità le possibilità che un professionista ha da spendere sul campo ci sono tantissimi percorsi ancora da sviluppare quello della videoanalisi è sicuramente uno di questi bisogna sapersi proporre sapersi proporre in maniera professionale perché la differenza è lì cioè tra aspettare che qualcuno ti venga a chiedere qualcosa perché hai una abilitazione una certificazione laurea qualsiasi cosa o ti sai proporre e allora le società gli atleti i team riconoscono in te un valore quindi e questo è ciò che tu stai dimostrando oggi cioè ho messo insieme così tante competenze e risulto così speciale che i professionisti vogliono che io li segua vogliono un mio servizio mi contattano per questo non perché devono esclusivamente avere la mia presenza avere i miei servizi ma vogliono avere e questa differenza tra volere o dovere cambia completamente chi oggi si sta impegnando sta investendo la vita il tempo che vale molto più del denaro nello studio delle scienze motorie doveva fare una riflessione e pensare a come porsi di fronte al mercato a quale competenze acquisire a quali mentori seguire quali persone ascoltare per poi proporsi con successo nel mercato perché ancora c'è un terreno da battere c'è tantissime cose da fare e quello che stai dicendo sono informazioni di altissimo valore io spero chi ci sta ascoltando colga ok vada a approfondire perché anche quello ovviamente della videoanalisi è un mondo ancora secondo me totalmente inesplorato per le potenzialità che ha come quello della valutazione della riatletizzazione ancora ci sono questi conflitti che tu rappresenti una figura ibrida comunque sia tra l'osteopatia nelle scienze motoriche man mano andrà sempre più riconoscendosi sulla parte di riabilitazione rieducazione riatletizzazione la riatletizzazione è prettamente nelle mani delle scienze motoriche con la volontà anche dei fisioterapisti che noi conosciamo con i quali collaboriamo con persone intelligenti con i quali collaboriamo esattamente è proprio quello che cerco di trasmettere durante le lezioni perché al di là dei concetti didattici cerco proprio di trasmettere una filosofia un approccio alle problematiche che possono stimolare gli studenti a trovare appunto sempre stimoli nuovi andare alla ricerca sempre di affrontare un problema sia in maniera critica ma comunque sia con l'entusiasmo e con la visione che ci sono tanti ambiti lavorativi dove si può approfondire il discorso non è solo l'università che ti deve formare ma devi essere consapevole che non si finisce mai di studiare è un percorso continuo sia di aggiornamento e sia di approfondimento di altre tematiche ed è un continuo andare alla ricerca di stimoli nuovi e di cose nuove io per esempio il percorso del video analista l'ho intrapreso dopo aver finito tutto il mio percorso di studi ho frequentato un corso di specializzazione alla scuola dello sport che era sulla match analysis mi sono appassionato a questo a questo argomento ho visto che poteva essere molto utile nell'ambito in cui io lavoravo e quindi ho provato a far capire l'importanza di questo tipo di di supporto scientifico che poteva essere dato e ho collaborato con diversi atleti di livello internazionale proprio nella video analisi del gesto sia in allenamento quindi con un'analisi a posteriore sia in tempo reale in gara dando dei dati che il tecnico riteneva utili durante la gara e questo è stato un elemento importante che ha contribuito affinché l'atleta ottenesse ottimi risultati insomma quindi ecco poi è stata capita un po' l'importanza di questa figura e piano piano sta prendendo piede che non si limita soltanto al fatto di fare delle riprese che poi c'è tutta una serie di conoscenze tecniche metodologiche per poter fare una ripresa in maniera corretta ma poi c'è tutta l'analisi delle immagini e dei dati che poi ne tiri fuori insomma quindi è una figura che in ambito sport di squadra è ormai abbastanza diffusa però la si può sviluppare e approfondire anche negli sport individuali e riguardi questo quindi tu riprendi ok le azioni e da lì cominci a stare delle informazioni su gli angoli del movimento sui comportamenti esatto esattamente le riprese vengono fatte quasi sempre in slow motion noi utilizziamo convenzionalmente o 240 fotogrammi al secondo o 300 fotogrammi al secondo che è una uno slow motion che ti permette di fare un'analisi un pochettino più dettagliata e ovviamente l'immagine dovrebbe essere in HD perché altrimenti si fa fatica ad avere dei dati sicuri e dopodiché in base alle richieste del tecnico si possono fare delle delle analisi su degli angoli per esempio l'angolo alla caviglia l'angolo al ginocchio l'angolo del busto tempi di volo tempi di contatto serie riesci anche a mettere dei riferimenti a terra puoi avere dei riferimenti metrici quindi riesce a trovare anche valori come la velocità insomma quindi ecco riesce a poi estrapolare un po' di dati pur non avendo magari tecnologie avanzatissime quindi ecco il discorso di non avere la tecnologia di non avere i soldi per investire in alcune strumentazioni non è necessariamente vero per fare un lavoro che possa essere utile per dei professionisti insomma infatti io ti chiedo questo perché ho visto un collaboratore una persona che risiede a Hong Kong e loro utilizzano strumenti anche abbastanza semplici un iPad con cui riprendono e poi identificano alcune informazioni che poi stanno con una videoanalisi diciamo abbastanza superficiale rispetto al lavoro che puoi fare tu però cominciano a stare delle informazioni e lì sta il concetto che sono le tue competenze che ti permettono di raccogliere le informazioni che non è soltanto la ultra tecnologia ma è cosa sai tu e tornavo ai discorsi prima cosa ci fai con quelle informazioni perché vado a raccogliere queste informazioni a cosa mi serve perché raccogliere i dati e riempire un Excel è una cosa poi trasformarli in un'azione significativa è tutta altra cosa insomma esattamente esattamente quindi molto molto interessante quello che dici chi ti vuole cercare dove può trovarti hai dei riferimenti una pagina Facebook sì ho una pagina Facebook ho una pagina LinkedIn e comunque sia sì lì può trovare i miei riferimenti perché tu sei anche nelle aule a fare formazione in giro sì sì mi occupo di didattica per quanto riguarda la federazione di atletica leggera quindi faccio lezioni ai vari livelli di formazione spesso mi capita di essere invitato a convegni o comunque sia seminari da tenere quindi sì diciamo che ecco a fine ottobre farò un intervento all'IFAC che si svolgerà a Formia che è l'International Festival Coach Atlet quindi e poi farò un altro intervento a metà novembre a un convegno nazionale che si terrà da Bannoter insomma ecco mi occupo anche di questo insomma cerco per quello che posso di divulgare quello che so e di cercare di aiutare gli altri a avere informazioni maggiori insomma ma io ti faccio le congratulazioni perché traspare la genuinità con cui lo fai e la sincerità la voglia di condividere e questa è una rarità soprattutto per un professionista che ha raccolto così tante competenze con altrettanta passione e dedizione e tanto tempo che ha investito in anni è sicuramente una grande ispirazione ascoltarti spero che chi ci sta ascoltando poi ti incontrerà e avrete modo di connettervi assolutamente perché il talk serve anche a questo io ti ringrazio per essere stato qua è stato un grande piacere spero che ci hanno anche altri momenti per parlare e condividere grazie a voi ciao ciao